La variazione di bilancio Il Cal sulla riforma delle ATC Il Consiglio regionale, nella seduta del 29 luglio, ha approvato la variazione al bilancio 2014. L'Assemblea ha poi discusso e votato due atti di indirizzo. In primo piano La conferenza dei capigruppo ha definito il calendario dei lavori delle commissioni per la prima settimana di agosto e si riunirà nei primi giorni di settembre per stabilire gli argomenti da trattare nella prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Con 39 voti favorevoli e 7 non votanti del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale ha approvato il 29 luglio la variazione al bilancio di previsione 2014. Il provvedimento è stato illustrato in aula dai relatori di maggioranza Valtero Tria, Partito Democratico e di opposizione Davide Bono, Movimento 5 Stelle. La variazione prevede 779 milioni di euro in più di quanto iscritto nel bilancio di previsione per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato due atti di indirizzo. All'unanimità l'ordine del giorno, presentato da Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, che sollecita un intervento della regione a favore dello stabilimento Vertec di Condove. All'arga maggioranza la mozione, primo firmatario Domenico Rossi, Partito Democratico, che impegna la Giunta regionale ad aderire all'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie, sottoscrivendone l'atto costitutivo, lo statuto e la carta di intenti. Il 29 luglio sono state ricevute a Palazzo Lascaris dal Vice Presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, con numerosi consiglieri regionali e assessori, due delegazioni. La prima del Comitato Difesa Ferrovie Locali di Cuneo, che chiede la manutenzione della linea Cuneo-Nizia e il potenziamento della Torino-Cuneo-Ventimiglia. La seconda del sindacato intercategoriale Cobas, per un sostegno all'arreddito dei disoccupati. In prima commissione bilancio e patrimonio, il Vice Presidente della Giunta regionale, Aldo Reschigna, ha spiegato la situazione del Palazzo Unico della Regione, un'opera di 42 piani che dovrebbe centrare l'obiettivo di far risparmiare l'ente regionale, che attualmente ha i suoi uffici sparsi in una quindicina di sedi, quasi tutte in locazione. Approvata anche la variazione di bilancio, poi approdata in aula, nella seduta del 29 luglio. Allo studio della prima commissione regionale è un provvedimento di legge che consente alla Regione di liberare risorse e pagare tutti i debiti pregressi nei confronti dei fornitori. Questa è una cosa importante per la Regione, ma è importante che sul livello nazionale, perché proporzionalmente aumenterà il PIL della nostra nazione. La legge che è stata approvata oggi finanzia per altri 700 milioni le imprese piemontesi che aspettano di essere pagate dall'amministrazione regionale. Quindi con i più di 1.300 milioni stanziati precedentemente, con quest'anno si riesce a arrivare a 2 miliardi di euro di pagamenti. Questo è frutto non soltanto del Decreto 35, ma dell'intervento che la precedente amministrazione seppe fare per restringere i tempi di pagamento. Quindi una misura estremamente importante per le imprese e le amministrazioni comunali piemontesi. Sindaci e amministratori locali hanno affrontato il tema del riordino delle agenzie territoriali per la casa e al termine dell'incontro il Consiglio delle Autonomie Locali, presieduto da Bruna Sibille, ha dato parere favorevole al disegno di legge in materia. Alla determinazione finale è stata legata la relazione presentata dall'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Grazie a tutti.